Ciao a tutti, oggi vi propongo le pizzelle fritte, deliziose, buonissime. Gli ingredienti sono scritti anche per esteso nelle info box sotto il video e nel blog. Procediamo. Prendo il lievito di birra fresco, ci metto un po' d'acqua dei totali e lo faccio sciogliere bene. Prendo una terrina e ci metto la farina, di seguito il sale e mescolo il tutto. Formo una buchetta all'interno della terrina e metto l'acqua a temperatura ambiente. Il lievito disciolto nell'acqua ed inizio ad impastare con una forchetta oppure con le mani fino a far integrare tutta la farina all'acqua. Quando l'impasto si sarà un po' compattato inizio a lavorarlo con le mani, lo dispongo sul piano di lavoro e lo lavoro in tutte le direzioni per circa 10-15 minuti. Volendo potete fare questa operazione anche con una planetaria. Ho finito di lavorare bene l'impasto, lo raccolgo in un panetto, mi aiuto con un velo di farina se necessario, lo metto in una terrina e copro con della pellicola trasparente. Adesso dovrà lievitare per lo meno per tre ore. Ed ecco il mio impasto ben lievitato. Metto un velo di farina sul piano di lavoro e ce lo rovescio. Raccolgo l'impasto e con un tarocco prendo dei pezzetti di impasto del peso di circa 50 grammi ciascuno. Li arrotolo formando delle palline. Ho realizzato tutte le palline, le metto su un piano di lavoro infarinato e copro con un canovaccio punito. Dovranno raddoppiare di volume. Preparo il condimento delle pizzelle, metto una padella sul fuoco con due cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio. Aggiungo la polpa di pomodoro, metto del sale, dell'origano e faccio andare per circa 10 minuti. Dopo 5 minuti di cottura tolgo lo spicchio d'aglio e procedo la cottura per altri 5 minuti. Il pomodoro è pronto, lo metto in una terrina e per renderlo ancora più profumato ci metto del basilico fresco tagliato grossolanamente. Mescolo il tutto ed inizio a friggere le pizzelle. Prendo i panetti e li schiaccio sul piano di lavoro andando a realizzare dei dischi. Premo bene al centro, poi prendo una forchetta e buco solo la parte centrale. Metto una padella sul fuoco, mi accerto che l'olio sia a temperatura emergendo uno spiedino. Quando si formeranno tante bolle significa che l'olio è a temperatura. Posso iniziare a friggere. immergo le pizzelle nell'olio e con una pinza da frittura oppure con una forchetta le premo al centro in modo che non vadano a gonfiare eccessivamente. Si andrà a formare una conca dove potrò mettere il pomodoro. Le faccio cuocere da entrambi i lati fino a doratura completa. Ed ecco le mie pizzelle pronte. Metto nella parte centrale il pomodoro del grano a padano e una bella foglia di basilico fresco. Procedo in questo modo fino a realizzarle tutte. Ed ecco le mie pizzelle pronte da gustare. Adesso non mi rimane che fare la prova assaggio. Che dire, sono ottime! Adesso vi faccio vedere come si presentano anche all'interno. E se la ricetta vi è piaciuta pollice in su e condividetela sui social. Attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. E se non siete ancora iscritti iscrivetevi! Un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video! Ciao! Ed io mi mangio un'altra pizzella!